buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione con il campionato spagnolo perché l'inglese sabato alle 13 e 30 lo spagnolo sabato alle 14 la prima partita poi tutte le altre a seguire quindi partiamo subito prima la prima partita giustamente da aiuto e bagliadolid getafe 12 elce siviglia 2 cadi ceibar altra partita da aiuto è l'ottava contro la sesta se non sbaglio l'ottava contro vabbè quello che è comunque sono lì lì sono lì vicine vicine come si suol dire no probabilmente l'ottava contro la sesta quella da 3 t bilbao garnalda che l'hotel dal decima contro l'ottava comunque cadi ceibar sono abbastanza vicine vicine quindi 1 2 anche perché il pareggio adesso che si arriva al clou della stagione no quando mancano 10 15 giornate alla fine perché quando mancano 2 3 giornate alla fine magari il pareggiotto va bene a tutte e due fanno il biscottone ma quando si è ancora lì lì che il pareggio ti serve ma fino a un certo punto perché le altre attaccate al veretano e quindi è abbastanza inutile quindi proviamo l'12 osasugna barcellona spero che il barcellona gli rifili tre pere perché io lo susanna non la sopporto però tutti gli anni si salva comodamente quindi comunque osasugna barcellona 2 proseguiamo con le partite di domenica uesca selta vigo altra partita da aiuto 1 2 poi c'è il derbone c'è un altro derby dopo il derby di manchester c'è il derby di madrid la prima contro la seconda grande libidine con un atletico madrid che ultimamente è un po in caduta libera quindi 1 2 anche qui ci proviamo magari mi fanno uno squallido 0 a 0 che poi mi fanno girare i testi però tenetene conto che ve l'ho buttata lì real so sedile buonanotte real so sedile levante 1 atleti bilbao granada questa ve l'ho detto è la decima contro l'ottava l'atleti bilbao sembra abbastanza favorito rispetto al granada quindi voglio rischiarla voglio rischiare questo 1 fisso è bella arrischiata quindi preferisco dirvelo essere sincero e infine concludiamo con la partita del monday night betis siviglia la ves 1 schedina alternativa bagliadolid getafe a mio rischio pericolo gol elce siviglia over 1 e mezzo cadi ceibar doppia chance doppia opzione quella che metto ogni tanto no l'over 1 e mezzo e l'under 3 e mezzo poi per chi ama gli over metta l'over 1 e mezzo per chi è si sente più sicuro con l'under 3 e mezzo vada di under 3 e mezzo osasunia barcellona over 2 e mezzo messi pensaci tu vesca selta vigo anche qui doppia opzione over 1 e mezzo o under 3 e mezzo quello che vi acchiappa di più atletico madrid real madrid mi arrischio il gol perché signori è un derby è il derby di madrid se non mi danno spettacolo loro mi imbizzarrisco real sosedal levante over 1 e mezzo atleti atleti bilbao granada over 1 e mezzo betis siviglia alla ves anche qui ho messo l'over 1 e mezzo l'under 3 e mezzo a vostra discrezione naturalmente quando andrò a controllare le schedine io guarderò solo l'over 1 e mezzo poi vi farò la la postillina sugli under dicendovi e però gli under li ho presi due ne ho presi tre li ho presi non ne ho preso neanche uno eccetera 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 però non li non li calcolerò nel conteggio del finale del come sono venute le situazioni andiamo a vedere le bollette allora ho scelto quattro partite mi dispiace le ho divise tra sabato domenica e lunedì perché avete visto anche voi pieno di aiuto 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 al lupo poi ci sono un paio di una partita era troppo pagata troppo poco quindi alla fine della fiera di fisse secche ne avevo cinque ne ho scelte quattro e le altre pota come dicono a mergamo tra l'altro lunedì c'è inter l'atalanta quindi e essendoci inter l'atalanta poi ma no ma non ve lo dico adesso poi lo farò nei prossimi video adesso bisogna andare via veloce se no poi vi annoiate mi stressate anzi vi stressate e quindi non è bello dovete essere belli allegri già siamo stressati per altri motivi comunque ho scelto queste quattro partite poi partiamo con i pronostici ho scelto elcio e siviglia osasugna barcellona athletic bilbao granada e real betis alaves quindi due partite di sabato una di domenica una di lunedì controllo al volo esattamente quindi elcio e siviglia 2 osasugna barcellona 2 athletic bilbao granada 1 real betis alaves 1 con 5 euro se ne vincono 33,04 io direi che non è male poi o se non vi sentite come volete mettere la doppiettina da qualche parte una sì due mi sa che andreste a prendere un po troppo poco ma se volete mettere una doppia magari portate a casa anziché 33 25 che è cinque volte la posta libidina bollettina numero 2 elce siviglia multigol ospite 2 4 è rischiata osasugna barcellona multigol ospite 2 4 ci sta atleti bilbao granada multigol casa 1 3 proprio perché il bilbao non è che fa gole ade e assurde e real betis alaves multigol casa 2 4 questa sì questa sì quest'ultima sì lo arrischiatello un attimino quindi tenetene conto siccome la quota è bella alta fa libidina è otto volte la posta se real betis alaves non vi sconquinfera pensate forse è meglio fare un 1 3 che siamo più schisci fate l'1 3 prendete magari 30 euro anziché 40 però io l'ho voluta rischiare così però preferisco sempre dirvi ragazzi guardate che è rischiata veniamo alla terza bollettina che a me piace particolarmente elce siviglia e sdue piovero osasugna barcellona e sdue piove l'atletico bilbao granada 1 is piove realmente salaves 1 x piove con 5 euro se ne vincono 24,41 vi ho fatto anche l'alternativa che è una sola sì perché basta e avanza e pagava già bene anche perché le altre sono un attimino pagavano bene ecco per intenderci quella lì pagava un attimino meno poi essendoci di mezzo è lui o non è lui è lui non è lui sì è lui è il barcellona dico proviamola quindi elce siviglia es due piove osasugna barcellona due piove atletico bilbao granada 1 is piove realmente salaves 1 is piove con 5 euro se ne vincono 31,07 e direi che siamo già libidine anche perché le altre pagavano sopra l'1,50 quindi ho detto perché andare a rischiare quando mi pagano già tre bollette tre partite 1,50 e qualche cosa con osasugna barcellona arrivo a oltre 30 euro con 5 euro ci stanno poi vedete voi se volete diversificare spezzare il combo giocarvi solo la doppia chance da sola e l'over dall'altra parte se volete mischiare potete fare quello che volete io vi do delle dritte per intenderci poi dopo voi strappolate copiate non copiate fate la cosa opposta devono essere solo delle dritte che il gigione vi dice guardate secondo me su queste 9 partite che ci sono del campionato spagnolo per cui una si gioca stasera queste quattro sono toste da giocare interessanti da giocare pagano anche bene c'è buona probabilità di poi ognuno fa quello che vuole vi ho fatto anche la schedina quindi c'è anche quella tenete conto la schedina di solito salvo disastri ne azzecco sempre tra le 6 e le 8 minimo poi capita che una volta soprattutto sugli over posso sbagliarlo se ci sono mega sorprese però a regola avete tutti i punti di riferimento proseguiamo con la bolletta che mi fa libidine libidine mica troppo perché Elce Siviglia gol casa Osasunia Barcellona gol casa Atleti Bilbao Granada gol ospite Real Betis Alaves gol ospite con 5 euro se ne vien con 38,06 mi sono fatto l'appuntino che l'Elce essendo in bassissima classifica contro il Siviglia potrebbe non segnare perché tenete conto quando il gol della squadra diciamo meno favorita di solito lo pagano 1,60 1,70 1,50 eccetera e il no gol il 2,2,2,10 2,30 2,40 e non sempre esce se addirittura il gol casa dell'Elce è pagato meno rispetto al no gol casa dell'Elce è meglio dirvelo poi siccome quasi sempre tutte le volte che una partita una squadra il suo gol non è favorito segna tenete conto lo stesso di quello perché è successo tantissime volte che io la partita in cui c'era l'asteriscone no che gol più over ma assolutamente no eccetera 3,2 l'altra partita che il gol più over ha dato a 1,70 contro il 3,50 del no gol più under 0,0 quindi non vuol dire non fanno quello che vogliono cioè non possiamo devi rischiare dal tonne è anche fortuna non è solo stare lì allora a quella squadra perché io quelle rare volte in cui ho guardato a quella squadra lì segna da dieci volte di fila prima o poi non segnerà da segna ah sì allora mettiamo che segna smette di segnare proseguiamo con la quinta bollettina Elce, Siviglia, gol più over, Osasunia, Barcellona, gol più over, Atleti, Bilbao, Granada, gol più over, Real Betis, Alaves, gol più over con 5 euro se ne vincono 223,78 però è giusto dirvi che Elce, Siviglia, gol più over non è favorito Atleti, Bilbao, Granada c'è una differenza di 0,50 a favore del no gol più under Real Betis, Salaves, c'è una differenza di 0,35 a favore del no gol più under L'unica partita che fa libidine in cui il gol più over è favorito è Osasunia, Barcellona Non dico altro, sto zitto perché è meglio Quindi tenetene conto, vedete voi, usate la caressa, usate l'intuito soprattutto l'intuito, perché l'intuito può darvi tante tante soddisfazioni Proseguiamo con la quinta bollettina, vi ho fatto anche quella alternativa perché naturalmente il gol non è favorito per nulla, ma proprio, ma non è anche per l'anticamera al cervello Elce, Siviglia, due più gol, Osasunia, Barcellona, due più gol, Atleti, Bilbao, Granada, uno più gol, Real Betis, Salaves, uno più gol, con due euro se ne vincono 431,93, con cinque euro 1079,83 Siccome tutti i quattro i gol non sono favoriti, ma proprio di tanto, non sto a starvi A parte naturalmente Osasunia, Barcellona che c'è una differenza di 0,40 Ma gli altri sono tra l'uno e qualche cosa e il due e qualche cosa nelle altre partite Di differenza a favore del no gol Vi faccio anche la bollettina alternativa col no gol Quindi Elce, Siviglia, due più no gol, Osasunia, Barcellona, due più no gol, Atleti, Bilbao, Granada, uno più no gol Real Betis, Salaves, uno più no gol Con due euro se ne vincono, pensate, una cifra assurda, ridicola, eccetera, 67,09 Con cinque euro 167,73 Detto questo ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, mi sono dilungato anche troppo E ci vediamo ai prossimi video che riguarderanno il campionato italiano e il campionato tedesco Quello italiano l'ho già preparato, però si stavano caricando lentamente gli altri due video Quindi ho detto aspetto a farlo E poi devo preparare quello tedesco che adesso vado a prepararlo subito Ciao